l'opera ma la dello cazzo francesco fori è però non è un cazzo tenebre poche di ero un cazzo sai qual'è l'unica cosa che si vede? le luci dai mi sai che si vede fra c'è? le luci dai io ho fatto volerlo io ho fatto volerlo ma non è finito oh non ho fatto volerlo ma sai che come morire? ma non come nei canavini mi dice maio e' tranne che non mi colgo io dai gustava dai niente praticamente niente aspetta ti vedi tu e' milvio? e' milvio? e' milvio? e' milvio? e' milvio? ma non te vedi? al limite te vedi? e' milvio? e' milvio? e' milvio? e' milvio? ti ho putt' il suddito meglio stafalo milvio? grande grande milioore ma non è finito questo video fa paura veramente paura questo video fa paura ma ci vediamo veramente no adesso ci vediamo ci vediamo si ti vediamo così così quasi così 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 allora 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 io mi faccio in giro porto a casa cucina cosi il mio amore io dai la nota del video ormai sede il prezzo per la parte del video la parte poi è il tuo cuore per la propria vita il tuo video è un video torino taglio tuoi amovora novi ovvi in una cosa ora è un'altra cosa ma non è un numero di messa per un po' è messa a fare la vita è un'altra vita o la vita di un uomo paura l'appartamento il primo del tempo per me è stato un prezzo di teoria ad un euro per fare a troverlo di un governo che non lo so il non è una ciascara la risposta il terzo testa il montecchino per ieri ok io ho un'altra leggera non è che io ho la leggera non è in giù ho fatto un'altra è un'altra ovvio mi ha detto che ci chiedi che dici soprattutto io come fa che in aria sono un'altra in dubbio cittadino calcato a calcolare tutto il calcio ho messo a roma pericolare il tornello dell'inverno il pericolino il posto truppo pericolare pericolare o pericolare la mia macchina l'uomo occhi non lo faccio a domani l'uomo l'uomo io l'uomo giocco non è veramente giocatore rossi anghiere è tutto bravo ale 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 e mi la faccio co ma c'ho un macello un macello però un macello vieni Sara come va io ma firmeni sei youtube oh questo metto su youtube questo lo mettiamo su youtube ma se non si vede un cazzo no è un pochetto si vede eh vedando il flash flashato vero ma spiegano parole tu flash flashato cavolo cosa c'è che fa una canna a Andrea con tutti i strumenti ahahah questa canna con tutti i strumenti